Ospite a casa Chi, Manuel Bortuzzo ha subito spoilerato di avere due nuovi tatuaggi. L'ex concorrente del grande fratello Vip, che da poco è uscito dalla casa più spiata d'Italia, ha deciso di fare un gesto d'amore molto importante per la sua Lulu Selassie e lo annuncia nel corso dell'intervista. Ho tatuato il 22, che è per la canzone di ultimo 22 settembre, è la canzone Mia e di Lulu. Racchiude un po' tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui. Ha spiegato. D'altronde di cose cambiate per Manuel ci sono, e anche grazie alla sua partecipazione al reality di Canale 5. È facile fingere che vada sempre tutto bene, però poi ti accorgi che dentro non è così. Adesso, l'aver ritrovato un po' di colore, mi dà speranza, una spinta maggiore, ha infatti ammesso. Un'altra cosa che per Manuel Bortuzzo è cambiata è la voglia di raccontare quel dolore tutto suo che, inizialmente, non credeva qualcuno potesse capire. Nel corso dell'intervista hai infatti raccontato. È cambiata quando capisci di avere davanti una persona che ha quella voglia e quella sensibilità per sentire ad ascoltarlo il tuo dolore. Quando trovi però persone come Aldo Montano e Lulu capisci che puoi condividerlo, ha quindi concluso.